Continuano i controlli nelle serate della Movida Cilentana e proprio lo scorso weekend la presenza dell'arma è stata più che mai risolutiva. I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania sono intervenuti a seguito di una rissa che ha visto protagonisti alcuni giovani bolognesi in vacanza ad Acciaroli, i quali, notata un'avvenente ragazza del luogo che si accompagnava a un giovane agropolese, hanno iniziato a fare apprezzamenti che hanno infastidito il giovane. Ne è nata una discussione culminata in rissa, nel corso della quale alcuni giovani hanno riportato lievi lesioni. I protagonisti della rissa, di cui alcuni minorenni, tutti prontamente individuati, sono stati deferiti in stato di libertà alle competenti procure della Repubblica. Immediata, ancora una volta, la risposta dell'arma che, sin dall'inizio della stagione estiva, presidia il territorio con ulteriori servizi appositamente dedicati alla Movida.